28 a Torino e 14 in provincia. In tutto sono 42 i ristoranti e i bar torinesi aderenti ad Epat Ascom che sono stati insigniti grazie al contributo della Camera di Commercio torinese del Bolino Blu, prestigioso riconoscimento ottenuto dagli operatori dopo essersi volontariamente sottoposti ad un complesso ITER di certificazione di qualità, come da protocollo d'intesa Conf Commercio Fipe e Ministero della Salute, rilasciato ad opera della società di certificazione Business Assurance DNV, accreditata a Credia. La premiazione con la consegna dei certificati è avvenuto presso l'Epat Ascom di via Massena 20. Il progetto Bolino Blu della ristorazione è uno strumento che dà quindi valore aggiunto alla ristorazione e risponde alle esigenze di sicurezza alimentare dei consumatori che sempre più rivendicano maggiore trasparenza e chiarezza. La qualità e il marchio di qualità viene ricercato dall'utente. L'importante è che i marchi siano seri e anche che non siano troppi e che non si sovrappongono. Questo marchio del Bolino Blu nasce già da anni sotto un profilo igienico-sanitario per evolvere verso criteri di qualità anche nel servizio e lo portiamo avanti in questi anni sempre con le forze tipiche della nostra associazione sperando anche che poi le pubbliche amministrazioni colgano l'importanza di questa metodologia.